Ben trovati! Ben trovati! Questo non è un video tutorial ma è semplicemente un promo per mostrarvi quello che creeremo lunedì sera 22 giugno 2020 a partire dalle 21.30 qui su questo canale YouTube. Faremo un video tutorial live con voi che mi seguite, con chi vorrà partecipare, chi vorrà chattare con me per fare domande ma quello che faremo è creare il pianeta Terra in 3D. Utilizzeremo After Effects ovviamente, utilizzeremo solo materiale gratuito quindi senza plugin di terze parti impossibili da acquistare. Sì, utilizzeremo un plugin di terze parti che si chiama Orb creato da videocopilot.net, sito a cui mi sono ispirato per fare questo tutorial. Ovviamente non è farina del mio sacco diciamo che quello che faremo è quello che viene fatto nel tutorial di Andrew Kramer però in italiano e soprattutto live per permettere a tutti voi di fare domande durante la diretta di lunedì sera. Se state vedendo questo video dopo il 22 giugno non vi preoccupate perché la diretta di lunedì sera verrà registrata ovviamente e sarà disponibile per tutti su questo canale YouTube nella playlist delle dirette, dei live streaming. Quindi l'appuntamento è per lunedì 22 giugno 2020 su questo canale YouTube a partire dalle 21.30. Chi vorrà potrà chattare, contribuire al progetto fabioambrosi.it con la super chat e soprattutto fare domande o anche stare in silenzio e vedere come si crea questa cosa che sto adesso muovendo con il mouse davanti a voi. Non è difficile. Anche se non siete esperti di After Effects vedrete che alla fine quello che faremo è molto 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 semplice. Vi aspetto lunedì sera. Ciao! Ciao!